Ieri vi ho deluso, non lo so, perché ormai vi ho abituati fin troppo bene, no? E cioè che a mezzogiorno esce un video che a scassa è il mondo. In realtà queste pause nazionali sono di una noia mortale, veramente sono qualcosa che mi fa passare la voglia di pensare che poi ce ne sarà anche un altro ulteriore. Poi per fortuna basta e iniziamo a entrare veramente nel video della stagione, ci sarà anche la Champions, la Supercoppa italiana, quindi per fortuna siamo quasi alla fine. Quello che per me sì è qualcosa di uno strast, diciamoci le cose come stanno. Io ho troppa voglia di vedere la Juve, veramente un sacco, però vi devo dire la verità che questa pausa nazionale, questa nello specifico per quanto riguarda la Juventus, è un bene. E' stata veramente una manna dal cielo, perché noi in questo momento siamo in piena emergenza, che è un po' il titolo che va a ricalcare questo video. Qualcuno potrebbe essere d'accordo, qualcuno no, lo accetto, però sono andato a cercare di comprendere anche quelle che potrebbero essere le indicazioni, Tiago Motta, ai calciatori in vista di quella che sarà la prima partita di campionato e poi tutte le altre perché è il 22, quindi fra 11 giorni si gioca pure la terza giornata di Champions League e sappiamo bene che la Juve fino adesso ha punteggio pieno, ha 6 punti, ma occhio per arrivare nella top 8, quindi la top 8, bisognerà cercare di dare continuità a questi risultati e ancora troppo presto e anche squadre come Milan che hanno perso le prime due partite potrebbero rientrare in corsa per qualificarsi almeno ai playoff. Quindi occhio perché questa formula della Champions è abbastanza particolare, ma la Juve non sta bene, questa è la mia umile opinione. Partendo dai nazionali, sappiamo sempre che quando c'è la pausa nazionale poi il problema è alcuni giocatori, terminata questa esperienza con la nazionale, tornano che sono stanchi, stanchi per gli allenamenti, stanchi per le partite, soprattutto stanchi per gli spostamenti. Per evitare di perdermi qualche giocatore vado direttamente a leggere la lista sul sito ufficiale Juventus perché abbiamo Rui con la Svestia Under-21, Savona con l'Italia Under-21, Bangula con il Belgio Under-21, McCennie con gli Stati Uniti d'America, Caval con la Colombia, Danilo col Brasile, con Seissau col Portogallo, Ildis con la Turchia e per l'Italia Di Gregorio, Fagioli e Cambiaso. Insomma, di giocatori in giro per il mondo ne abbiamo abbastanza. Altro Cambiaso che ieri sera ha fatto gol dopo un minuto nella sfida col Belgio in una stazione dove abbiamo cercato di triangolare, spesso e volentieri i triangoli ce li hanno chiusi invece gli avversari e poi Cambiaso è riuscito con un tapin molto particolare a infilare la palla del vantaggio dell'Italia. Quindi Cambiaso sugli scudi dal punto di vista del nome della nazionale, però torniamo un attimo in ambito Juve perché questi giocatori che sono stati tolti dal gruppo di Tiago Motta io mi immagino Tiago Motta che arriva a lavorare tutti i giorni e questi non ce li ha e quelli che sono rimasti non sono per niente al 100%. Perché purtroppo la Juve, partendo da Bremer, che è un infortunio che non ci voleva, lo sappiamo, Tiago Motta l'ha detto chiaro e tondo, bisognerà dare tutti qualcosa in più per sopperire alla mancanza di Bremer, però possiamo girarci intorno quanto vogliamo ma Bremer è forse uno dei pochi davvero insostituibili dentro la rosa della Juventus tant'è che la Juve sta cercando di ragionare in chiave mercato e sappiamo bene anche in questo caso quando c'è la pausa nazionale boom! Arrivano i nomi di mercato e questo, questo, quell'altro. Faccio un esempio, Skriniar. Io non posso pensare che Skriniar possa concretamente essere un nome di mercato per la Juventus. Non me lo vedo. Poi è ovvio che è la classica occasione perché il giocatore si aspettava tutt'altra fortuna al PSG però non credo che la Juve voglia andare a fare un investimento di questo tipo e poi occhio perché Skriniar è anche uno di quei giocatori che potrebbe ricevere dei provvedimenti disciplinari in seguito a quello che è tutto il filone legato agli ultras dell'Inter dato che Skriniar è uno di quelli che è entrato in contatto direttamente con il tifo organizzato nell'azzurro quindi monitoriamo anche questa situazione perché quando prendiamo il mercato dobbiamo anche prendere in considerazione queste cose vai a prendere il giocatore e poi magari te lo squalificano perché ha violato il regolamento e sei punto a capo. C'è anche Ato che sembra un nome molto molto interessante per la Juve giovane difensore centrale dell'Ajax io lo conosco poco, lo conosco un po' di nomea nel caso dovesse essere lui andremo a fare un approfondimento proprio qui sul canale. Milik, non dico che sia la situazione di Bremer però Milik è un altro che fino adesso non si è mai visto almeno Bremer si è visto, Milik è stato operato anche lui di recente al ginocchio non la stessa gravità dell'infortunio di Bremer però sappiamo bene che, non dico vice perché sennò poi Tiago Motta giustamente si arrabbia però il sostituto che dovrà far riviatare Vlaovic in questo momento non c'è e voi direte ma ci sono delle possibilità? Eh però adesso andiamo avanti con questa lista perché Milik è un punto interrogativo grosso non sappiamo quando rientrerà ancora pieno regime sarà interessante capirlo perché poi io nomino anche Asic che è un giocatore che fin qua non ha ancora esordito ufficialmente con la maglia della Juventus un giocatore che ha fatto tutta la pre-season, l'abbiamo visto anche negli amichevoli è sembrato pure interessante e poi nel momento in cui c'era da giocare le partite di campionato ha avuto un doppio infortunio qua magari il giocatore sta anche attraversando un momento particolare di crescita muscolare che va a limitare alcune prospettive come appunto la continuità fisica abbiamo visto mille volte dei giocatori che tutti in una volta a mettere su tanta massa ecco che iniziano ad avere tanti infortuni spero che sia questo il motivo e non che sia veramente un infortunato cronico perché è un ragazzo molto giovane un ragazzo di cui si è parlato tanto bene fino adesso anche lui non si è visto c'è Nico che per fortuna nella serata in cui si fa male Bremer lui si fa male in una maniera un po' più accettabile non è il crociato è un infortunio muscolare sì d'accordo però dovrebbe tornare non dico a breve ma nemmeno tra tantissimo si parlava di un mese di stop quindi tra un po' potrebbe pure tornare abbiamo UEA Tiago Motta ha fatto il punto della situazione infortunati nell'ultima conferenza stampa pre-Juventus Cagliari e ci ha detto che UEA si era allenato col gruppo era un giocatore che lui considerava già convocabile ma il ragazzo sentiva ancora male e quindi è stato preferito lasciarlo fuori io mi auguro che durante questa sosta nazionale il giocatore possa avere un pochettino recuperato da questo infortunio anche perché oggi come oggi abbiamo pure con 6-0 squalificato con la last ne parlavamo nell'ultimo video oltre al danno alla beffa giocatore che è stato ammonito per un fallo che è stato dichiarato un errore eppure la squalifica ce l'ha tenuto allo stesso con la Lazio non ci sarà e sarà da fare un bel rompicapo bisognerà iniziare un pochettino a capire come metterli giù questi giocatori poi abbiamo Cobainers che in occasione proprio dell'ultima partita ha avuto un problema qui c'è questa costola che si è fratturata, incrinata quello che è e anche qui si va verso il mese di stop forse è un pochettino meno però anche in questo caso come nel caso di UEA andrà monitorato anche il dolore che sente il calciatore per forza di cose quindi bene o male tolto Vlaovic che però non sta riposando praticamente mai e Nico non c'è e UEA non c'è e Asic non c'è e Milik non c'è e rimane praticamente solo Yiddish che è anche solo e Bangula immaginarsi una Juventus titolare con la Lazio la prossima partita è già molto complicato ragazzi molto difficile perché mancano tantissimi giocatori davanti per fortuna dietro c'è soltanto Bremer indisponibile ma davanti la Juventus è messa molto male in questo istante e attenzione che uno dei problemi più grandi della Juve è proprio il fatto che non sta segnando perché 10 gol in Serie A in 7 partite sono troppo pochi a maggior ragione se i giocatori si rompono pure e hai a disposizione sempre meno frecce nel tuo arco beh la prossima partita con la Lazio sarà sicuramente un banco di prova molto importante per Tiago Motta che dovrà inventarsi per forza di cose qualcosina per cercare di sopperire a tutte queste essenze io non so bene o male cosa succederà immagino che Cambiaso possa essere alzato sulla linea dei centrocampisti offensivi quindi magari Cambiaso da una parte Bangula dall'altra Ildis trequartista Vlaovic davanti Savona e Caval come terzini Gatti e Calunu come centrali e poi a centrocampo per fortuna di scelte ce ne sono bisognerà cercare anche di rivitalizzare un pochettino Douglas Lewis che nelle ultime due partite diciamo che non ha fatto vedere proprio il meglio di sé quindi questa è la situazione per me la Juventus è in piena emergenza e credo che in questi giorni di pausa nazionali Giuntoli e Tiago Motta stiano anche un po' ragionando su quelli che possono essere i potenziali nomi chiave calciomercato perché sappiamo bene che il calciomercato apre poi a gennaio ma in realtà non chiude mai e questi sono i primi giorni in cui si iniziano a buttare anche giù le liste di nomi si cerca di capire gli interessi concreti di una squadra nel far partire un determinato giocatore si sentano gli intermediari i procuratori che vengono vanno a offrire tanti giocatori per dire questa pausa nazionale ci sono dei giocatori svincolati che stanno cercando di trovare spazi in Serie A faccio un esempio Balotelli che sembra essere conteso tra Genoa e Torino o almeno questo si leggeva qualche ora fa un giocatore che ha voglia di tornare in campo era un nome che era anche circolato per la Juventus l'avevamo analizzato avevo detto che per me non era assolutamente plausibile io esagero su Balotelli forse ma per me oggi nessuna squadra di Serie A avrebbe davvero bisogno di Balotelli però questa magari è soltanto la mia opinione basata su quelle che sono state le ultime stagioni di Balotelli in Serie A tra Serie A e Serie B tanto la Juventus sicuramente sta iniziando a cercare di capire come arrivare quindi stringendo i denti al mercato di gennaio e quali nomi possono essere fatti all'interno di una sessione che tanti soldi non ne ha e dovrà cercare anche di limare un pochettino i rami secchi per rami secchi si intende a quei giocatori che sono fuori progetto e sono rimasti per fortuna soltanto Arthur perché tutti gli altri sono stati scaricati ma Arthur ha veramente i limiti della rosa e dovrà cercare una sistemazione migliore e poi c'è Pogba che la Juventus sta cercando di allontanare con una recessione consensuale del contratto in seguito a tutta questa veramente odissea che si è portato dietro Paul dal suo ritorno a Torino però questa è la situazione con la last sarà una partita difficile se la pausa nazionale solitamente per me è un momento in cui non vedo l'ora che torni la Juve oggi devo dire la verità la vedo come un'opportunità per cercare di recuperare alcuni giocatori e dato che per fortuna la Juve in queste settimane non avrà gare ufficiali per cercare di rimettere in piedi alcuni ragazzi che purtroppo si stanno fermando con troppa continuità fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti